Bentornati! Avete mai visto saltare un uovo come una pallina di gomma? Ecco, adesso vedete come il perché questo uovo salta così e mentre questo non salta. Come mai? Andiamo a vedere! Amici del canale, oggi facciamo un esperimento. Uova, guardate, io di uova le mangio parecchie, visto che non fanno male, anzi fanno bene altro che... Allora, adesso facciamo un esperimento. A volte le mie galine, adesso ne ho pochissime, perché la volpe le ha mangiate, però queste sono acquistate, fanno le uova molle tenere. Come vedete qua, in un vecchio filmato, addirittura senza guscio, solo quella pellicina. morbido, con la pellicola uscita dalla gallina. Allora, adesso volevo fare un esperimento che ho visto che, come l'hanno fatto già altri anche, di mettere l'uovo in un bicchiere e mettere dell'aceto bianco nel riempirlo il bicchiere. Adesso versiamo, metto l'aceto fino a coprirle, le uova stanno a fondo perché sono fresche. se fosse, ecco, l'ho coperta, ho messo bianco, aceto di vino, se mettevo quello nero di vino rosso, diventerà più scuro l'effetto. Così adesso lo vediamo qua. Adesso bisogna lasciarlo, il bicchiere così, fermo sommerso l'uovo per due giorni, 48 ore. Vediamo, vediamo l'effetto che fa. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Come diceva Enzo Yanassi, vediamo l'effetto che fa. Vediamo l'effetto che fa, vengo anch'io. Vediamo l'effetto, guardate qua cosa è successo. Questo è un giorno dopo, neanche due giorni. L'uovo si sta facendo questa cosa qua. Adesso aspettiamo ancora un giorno, ancora 24 ore e vediamo cosa viene fuori. Guardate l'uovo, mentre passa le ore, sta mollando delle bollicine. E queste, guardate la galla, nella superficie qua, cosa significano quelle bollicine lì? Si stanno staccando le parti del guscio. Perché si formano, perché l'aceto è formato di acido acetico, che sarebbe H3COOH, la formula. Mentre il guscio è formato da carbonato di calcio, sarebbe CaCO3, quindi insieme si forma CO2. Sarebbe l'anidride carbonica CO2, che fa le bollicine. Ecco qua, sono passati quasi due giorni. Un giorno e mezzo, però toccando l'uovo lo sento già mollo, quindi io penso che basta. ha mollato tutto il suo calcio, il guscio che doveva lasciare. Adesso si può risciacquarlo sull'acqua corrente. Ecco qua, adesso metti sul lavandino. Prendiamo via l'aceto. e tiro fuori l'uovo. Guardate va via anche il colore, l'ultimo colore della scorza. resta bianco bianco, lo sento tennero. Come quando le galine fanno l'uovo senza il guscio. che capita. Oppure fanno due uova, due uova contemporaneamente. Uno viene, ecco qua. Uno viene fatto dalla galina normale. L'altro viene, guardate, che morbido. Adesso facciamo la prova. Adesso con l'oscurità facciamo luce e vediamo la sua trasparenza. Vedete? Se ci fosse il cucino dentro, si vedrebbe. Naturalmente non si fa una roba del genere col cucino. Perché dovrà, ecco, covare. E io non vado a sacrificare una vita. Vedete? Adesso questo è un uovo normale, con il guscio. E questo è quell'altro. Vedete? Uno morbido e uno duro. Adesso spegniamo la luce. e questo la trasparenza è minima. A volte uso così per vedere se ci sono pulcini. Questo con la buccia, col guscio, come si dice. E quest'altro, senza guscio, quello che era nell'accetto. Infatti è morbido. Quando la galina cova, io controllo sempre se nasce il pulcino. Qui vedete la bolla d'aria che c'è. Mentre questo con la... Qui non c'è... La bolla d'aria non si vede perché è già tutto trasparente. Però dentro è ancora buono. Adesso facciamo la prova del rimbalzo. Naturalmente un uovo con il guscio è duro. E l'altro saltella fino a che si rompe. Io penso che questo, se lo lanciassi più alto, si spacca. Invece questo si spacca anche però con meno probabilità. Ecco l'uovo che rimbalza. Calca l'uovo. Calca l'uovo. Calca l'uovo. Ed è la stessa gallina partita. Adesso per concludere è la volta buona di rompere l'uovo che rimbalza già pronto nella padella perché se è buono si può anche mangiare ecco guardate la pellicina Questa è la pellicina che trovo spesso quando le galline fanno l'uovo senza il guscio perché il guscio è stato mangiato adesso dall'aceto. L'uovo ancora buono però adesso io lo cuocio ma non lo mangio io gli darò alle galline che lo mangiano volentieri. Ecco anche senza olio perché è una pentola antiaderente la mettiamo sul fornello. Alla prossima Ciao 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 Ciao